E saluto a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video di Fallout 4 Sono andato un po' avanti Ho rimosso le mod, ho dovuto rifare il salvataggio, sapete perché? Abbiamo un irragliatore Abbiamo capito che le mod danneggiano il gioco troppo Guardate ragazzi Ed era proprio questa pistola che non riuscivo a trovare Questa Proprio questa Ehm, Giulia, ora fai mettere il pistone che abbiamo preso Ok, il bestione Eccolo Sto bestione Andrebbe migliorato Però noi non abbiamo abbastanza materiali per il maledetto mirino Quindi ragazzi Anche se oggi non abbiamo il mirino Andremo a Sanctuary Hills Sapete che si trova lì? Un mostro molto potente No, non lo so Qua qualche piccola lotte è successo Vabbè, non è importante Non ce ne ho Si trova Si trova un death club Anche un'arma che abbiamo noi in mano Si proprio Sul vetri Beh, non so bene come si dica ma mi piace 8 colpi 8 colpiare Guardate ragazzi Che bestione Ora il mirino Il mirino La cerchino Spure tra il vivere il respiro Ora possiamo essere sneaky sneaky Come potete vedere in basso a destra Pia vuol dire la stanchezza l'energia che ci resta e P.S. è la vita chi è che non lo conosce? dovrebbe imparcarlo ora guarda qui e guardate qua cosa abbiamo? la arma atomica ma non c'entreremo possiamo pingare cosa? Tolime mettiti lì i traiettori aspettate ragazzi guardate allora se io faccio così oh lasciatelo guardate ragazzi se io vado qua accediamo a tutte tutte le armi e andiamo al castello potremmo fare il castello leggero ma solo che peso minore e danni ridotti no una cosa veramente che manco serve e noi ci vogliamo fare tanto una cosa buona allora vediamo no mi manco ecco qui il silenziatore questa pistola sentite quanto 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 rumore fa guardate fa un casino guardate vedete vedete è più forte di una pistola normale più forte vediamo che ore sono che ore sono? da poi io vedo le ore 12 di mattina ok a presto vabbè faccio qualche dormitino per far passare il temporale solo per vedete ragazzi qui non si capisce più che ore è l'olì perché ti dobbiamo mettere zero fatti una casa è fatto in legno abbatti quell'albero gigante ragazzi no noi possiamo pure costruire come potete vedere l'olì ricicla alberi pure alto che saranno acciaio guardate ragazzi giulì ora tutto quello che incontro anche quello giulì quello giulì dell'altra casa aspetta raga sto prendendo tante cose sono i materiali questi allora io prendo tutto il materiale che posso ragazzi tutto in legno ma c'è di legno ma c'è giulì guarda questi non queste sono le mosche le mosche le mosche non chiamo gogo gogo il punto di ciclo ha mandato un altro pelone che da un casino di rame perché rame veramente giulì danno rame quanto si hanno uno di rame ogni volta uno ragazzi ma gabby scriveteci nei commenti gabby come ha fatto ad avere 999 i materiali su porta mi piacerebbe ma è una gata me strutture abbiamo guardate il cimento qua ho dovuto un po' scioppare perché guardate muri però non ce lo faremo non ce lo faremo perché risparmieremo per altre cose per questo perché non vogliamo quindi conciremo con strutture in legno andremo andremo dicevo andremo qui e capanno grande capanno capanne gialle e cosa abbiamo? perfetta più o meno perfetta veramente ragazzi voglio dire una cosa energia e non mi carica mai posso farmene solo tutti chi fa il mega posso farmi solo due allora ragazzi potremmo farci due di questi e sarebbero i piccoli però i grandi a te piccolo non ho spiegato i materiali se ne prendiamo più ceramica no il rame ce ne abbiamo no quanto se prendiamo ancora un altro ingranaggio o un altro ingranaggio se ne sapono uuuh munizioni non hanno le pistole in casa hanno sta pistola in casa c'è ti rendi conto giuli vuoi a depositare l'acqua bestia ora ragazzi però a me mi è venuta un'idea guardate lì dove c'è scritto generatore medio dice tutto quello che serve e guardate la produzione è cinque se ne metto tre questi ne possiamo fare due dove sta scritto generatore piccolo c'è scritto tra parentesi due giuli fatti piccolo sia un risparmio che un avanzo risparmio aspetta 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 la vasca ceramica se no andiamo un po' a cercare per tutto il commonwealth quanta gomma infatti c'è un'altra riscarica di giuli ho visto una casa sopra lì quello è il vault no ragazzi andiamo in esplorazione di materiali no di componenti per lui allora allora io mi teletrasporto vabbè andiamo a piedi ok ok portone i miei petti e anche il nostro bettone lo so dovrei dire una cosa per lui le torrette no ma tu hai ragione ma tu hai ragione ho ragione questa volta hai ragione sempre e anche un portone rulli ora vediamo rulli no stagionate di fortuna ci muto di fortuna io vado di fortuna come sta come sta cancellone eccoti oh eccolo qui il nostro amato cancellone l'abbiamo un po' coprato da gabby ma però è meglio è meglio avere più sicurezza è vero sicurezza non ce ne abbiamo perché raga ho lasciato uno spazio gigantesco ecco da fuori stavo entrando questo è il problema di questo cancello un po' questo lo metto sono genio sono genio sono genio sono genio giuli no mi hanno diventato l'aria l'aria ragazzi abbiamo soltanto un'aria di costruzione disponibile però è di là il problema ok non lo metti giù un muretto un muretto guarda matti se andiamo in difesa potremmo farci no non possiamo farci se andiamo qua in impostazione di guardia possiamo farci nel mio dici è meglio è meglio mettere dopo il cancello che ne dici sì allora uno lo mettiamo poco più lì qui un altro lo mettiamo al bidone bidone bidello un altro lo mettiamo lì poco più adesso puoi andare ancora un pochino un altro lo mettiamo qui con l'accento sulla i e il cane fa pipì è sempre questa rima la mia ok e direi che il cane ha fatto troppo pipì davanti e ho no l'ha fatto un po' troppo scusa il cane il mio salvataggio è solitato lo giuro e tu ne avrei messa una aspetta aspetta ragazzi mi è venuta un'idea se lo possiamo fare no 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 io conosco un piccolo posto vicino per farci vabbè lasciano stare il cancello andiamo così lo spaventiamo rimettiti la a bettone ragazzi io dicevo beh pure questo però c'è anche il bettone senza affesa anche tu non sparate mai all'alto esplodono mamma mia guardate come erano devo dire per forza come erano perché sono passati duecento anni sui cuori quanti con me eh Matti non posso non si chiare perché boh non ho voglia scurri guarda qua vicino all'idea dintorno si trova una rivolta Matti tipo quella sei colpi ricordi che tutti conoscono io meno tutti perché io moro in sto muore sono o meno e poi non è persivo ma se lo fai arrabbiare è molto persivo però noi facciamo amicizie con loro no quelli scappano ecco oggi esploseremo questa pistola sapere più a me però pochiamo vedete questa è fortissima e perché scatola di forcino tre rega mamma mia non mi arma non mi riconosce no Betty no no Betty no scusa Giulia no Betty il mio cane però se vado a fare tutti i lavori a lui no rega ho sprintato il volo no ma hai fatto qualcosa sì ho fatto il salvavita ma che serve nel frattempo lo salvo salvavita ti salva la vita prendo la freccia ai cavalli cavalli mi chiami sì cavalli guarda qua io mai posso costruire come su fortnite se potevi allora ve lo uccidi stai morendo perché la possiamo fare provviste guarda quante guardate quante stinpe guardate al massimo di vita ora giù lì questa volta ecco guardati dietro scemo noi ragazzi vediamo un po' rosagno no è troppo a ruba no fu ne abbiamo sfragiullati qui qui si sono mimetizzati qui possiamo operare ecco qua possiamo vedere dei circuiti qua vicino negli intori potrò andare pure allo scavo in ci sarebbe il drive in dove gli abbi lì è sopravvissuto ecco lì troveremo i circuiti era proprio quello che stavo cercando due smaltimento di robot questo non ce l'abbiamo sul tuo salvatore sì che ce l'abbiamo circuiti sì tu resta fermo tu mi usciva non giuro a volte mi usciva ah che era robot qualcosa del genere ma in alto ok questo è erano tu lì qui devi aggirare un pochino un altro ti impara un altro che ti ti faccia la fa buona ed ecco possiamo continuare aggirare aggirare nata mi sa che qui attiva cosa hai fatto hai attivato il robot sì no mi fa paura di questo sì perché questo è un robot sentinello basta solo che scrocco le dite esplode uh water water hai detto acro io avevo capito water water giuli vogliamo fare una cosa prenditi un attimo giuli la pistola quella lì da lì si trova un altro mitragliatore ma io non lo vado a prendere vabbè giuli dai più ammoo io sarò pure dai giuli no mattina no dai giuli per favore giuli non c'è un mitragliatore ticket escarcian ticket escarcian no questo è piccolosissimo ma che dici ma non ci sono tutti i predoni di prima ah non ci sono di dopo perché ragazzi poi ce n'è un'altra dopo è infestato da predoni giuro ho visto questo qua che l'ho aiutato se lo vedete però se voi accettate la sua cosa e voi avete finito la sua missione giuli finisci la missione subito giuli prendi non ti ho mai risorse mi prevedo ah sì non ti ho mai giuli dopo che tu finisci di ammazzare di parlare con lui Matteo arrivano lui arrivano loro ok le bolle raga qui dobbiamo essere pronti che non è errata a voi vedete perché qua è tutto pieno d'acqua ecco questo una ecco ne una due ecco dove dove l'ho trovata sotto sotto qui tu lì te ne devi andare non riesco a trovare dove se ne va ecco ne una no da lì bevi vai io uscivo dall'acqua e facciamoci andare da voi fatti andranno a voi giuli sarebbero questi e mi faccio con uno stilpa stilpa che rado a voi giuli ti fai tutta la vita però ti ha armato sui monti ti vado un poco a derubare ecco giuli qui abbiamo trovato tu ti ricordi risolto ok tappi 21 21 scassi ragazzi stiamo facendo un video 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 scusate ragazzi no guardate 2 secondi giuli e roba roba buona è questa prendila non ti proviamo per questa manco una e la potrò prendere questa vabbè la prendiamo la rivolverò e ti dice quante l'amai anche me non sprechi una forcina è questo adesso tu hai detto non sprechi una forcina è questo bravo 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 mi avete fatto sprecare una forcina una forcina niente niente ci tuffa la vita in basso quella e giuli non l'avevi vista no ok no giuli un altro non è qui si deve stare qua questo non è qui ma io giuli ce n'è uno lì aspetta io salvo prima quante volte sono giuli devi andartene eccola giuli regà dobbiamo correre e poi ti fai un radaway fatti un radaway regà subito radaway due me ne so fatti pure sui stimpet tanto se ne abbiamo otto casi e sprecati due simo è l'ultima no giuli no giuli i primi amici della terra da terra si così possiamo io so che stava quella capenetta lì quindi andiamo a piedi e poi tra poco concludiamo il video lo so che stiamo facendo il video un bel po' lunghi però il caricamento di fallout mi hai detto perché a volte e poi ce ne erano qui ce ne erano una era una dove stai papà non ci sono più radiazioni infatti c'era qualcosa che mi si era metto giuli forse l'altra mano no raga avevo bugato il gioco no dai vabbè torniamoci domani oppure che cosa ho vista forse perché è bugato è bugato è bugato è già mi si era bugato non vedo altri tubi forse è lì non un altro lì se sarà qui veramente ah ma è quello di prima servirà bene un ciocchino 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 no non vedo niente forse è possibile un'altra maniglia e forse la riapri si può essere spinta in acqua che bello ora non più già hai visto un maschio andiamo andiamo a derubare ora mi sono rotto si è rotto ora c'è un'altra vediamo che lo sono mi ricordavo che qua c'era una cosa che faceva delle flore erne ragazzi mi sa che concludere il video qua spero il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale ricordate di di condividere il video a tutti i vostri amici ciao ragazzi ciao